Perdere tempo sui social network non serve a niente, però un post è un post di successo non parloriale, quando crea interazione. Invece qual è il post che funziona? Un post che crea dibattito, esprime un'opinione. In questo modo diversificherete il nostro modo di essere sui social network e comincerete ad avere un seguito. Piano, piano, c'è la brazza, due. Pronti? Tienila, tienila, tienila. E solo non esiste. Dobbiamo far capire dai brand, dai personaggi che la donano in questa industria che abbiamo un valore. Quindi se voi riuscite ad aggiungere il livello tale e voi riuscite a ispirare le persone per quello che fate, è molto oltre che a caso ho preso 100 live più che ho i bisogni più grossi. Cioè, quello ci sta, però cosa state dando alle persone? Quanto io possa essere meglio o peggio di Simone? Simone per il suo, io per il mio è un altro, è un'altra immagine, lui può dare le cose che non posso dare e viceversa. E ovviamente l'industria deve capire che se non ha noi, che siamo i migliori, non avrà niente. Non è il mio ritorno, anzi si abituerà a gente scadente o inizierà a pagare e comunque a città. Fiii! 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 Fiii!